La missione della Chiesa in questi due paesi, nelle Filippine e nello Sri Lanka, è la missione della Chiesa in tutto il mondo, che è quella di annunciare il Vangelo, di proclamare la buona notizia di Gesù, che è fonte di vita e di speranza per tutti gli uomini, tenendo conto naturalmente del contesto nel quale si trova a vivere e ad operare, un contesto caratterizzato da una molteplicità, potremmo dire quasi da un mosaico di società, di culture, di religioni. Ecco, sappiamo che il continente asiatico è la culla delle grandi religioni del mondo e poi dal fatto che la Chiesa è una piccola minoranza, un piccolo gregge, ecco, in mezzo a questa realtà così vasta. Ed allora anche questa missione dovrà modularsi in base a queste caratteristiche. Mi sembrano due i punti di forza di questa missione. Da una parte, diciamo, l'aspetto delle attività caritative e umanitarie nel campo poi della salute e dell'educazione, che già riscuotono un grande apprezzamento presso l'intera popolazione e anche presso i governi dei vari paesi. E sull'altro versante ecco l'aspetto del dialogo interreligioso, quindi promuovere e consolidare sempre più l'incontro, il rispetto, l'accettazione reciproca, tenendo conto anche di quello che il Papa dice nell'Evangelii Gaudium, che il dialogo interreligioso è fondamentale per la pace oggi nel mondo e che quindi diventa un dovere di tutte le religioni. Quindi certamente questo sarà, diciamo, un punto nodale e focale dell'attenzione del Papa durante questo viaggio. Nello Sri Lanka purtroppo le differenze etniche e religiose continuano ad essere motivo di tensione, tanto che nel paese si è sviluppato un fondamentalismo buddista. Qual è in questo scenario così complesso la missione, il compito dei cristiani? Beh, a me sembra che se c'è un luogo dove si deve parlare di una funzione di ponte è proprio, ecco, nello Sri Lanka ed è proprio della Chiesa nello Sri Lanka, anche perché la Chiesa è facilitata in questo suo compito dal fatto che raccoglie membri, raccoglie fedeli da entrambe le etnie principali, sia dai tamil che dai cingalesi. E quindi la Chiesa conosce un po', diciamo, quello che c'è nel cuore di ognuno e conosce anche le aspettative e quindi può veramente svolgere questo compito, questa funzione di riconciliazione, di dialogo e di collaborazione. E però vorrei sottolineare anche il fatto che lo Sri Lanka tradizionalmente ha conosciuto, diciamo, un grande sviluppo di questa armonia religiosa, ecco, fra le varie religioni, no? Ecco, si è sempre caratterizzato per questo incontro, per questo dialogo. Purtroppo, come lei sottolineava, ultimamente sono sorti dei gruppi estremisti che manipolano un po' l'opinione pubblica e creano, diciamo, tensione, ecco, creano tensione utilizzando la religione per scopi che non sono chiari. Ecco, noi ospicchiamo appunto che questa tradizione che c'è di dialogo interreligioso e di collaborazione interreligiosa possa prevalere, ecco, su questi nuovi tentativi un po' di destabilizzare la situazione. E nello stesso tempo ospicchiamo anche che le autorità possano intervenire proprio per preservare questi che sono valori fondamentali di quella popolazione. Papa Francesco visiterà anche il santuario di Madhu nella regione a maggioranza tamil. Quali sono le tappe di un vero cammino di riconciliazione? Ecco, direi che Madhu è un po' il simbolo di questa chiesa ponte, no? Di cui parlavo un attimo fa, proprio perché è un centro di preghiera ed è un centro di incontro anche. Il santuario di Madhu è conosciuto, apprezzato e frequentato anche da membri di altre religioni, non solo dei cattolici. Ricordiamo poi anche gli episodi legati alla guerra civile quando appunto Papa Benedetto chiese all'allora Presidente della Repubblica di fare di tutto per preservare l'incolumità di quel santuario. Proprio per questa sua caratteristica si trovava allora un po' sulla linea del fronte, no? Tra i due gruppi che si combattevano ed era diventato un centro di presenza di molti sfollati da entrambe le parti. Ecco, io credo che il Papa, come ha fatto Papa Francesco, come ha fatto l'8 di febbraio quando ha incontrato la comunità sri lanchese in San Pietro, ricorderà evidentemente tutti questi episodi, episodi dolorosi, le tante lacrime, come lui diceva, che sono state versate proprio a causa della violenza e del conflitto e della crudeltà, del conflitto, ma non tanto per riaprire ferite, ecco, quanto piuttosto per lanciare uno sguardo al futuro, a questo impegno di riconciliazione che deve caratterizzare tutte le componenti della società dello Sri Lanka. Un impegno di riconciliazione che passa attraverso il riconoscimento della verità, ecco, io credo sono queste le tappe, una, diciamo, un'attenzione alla giustizia e una collaborazione di tutti al bene comune. Seconda tappa del settimo viaggio apostolico di Papa Francesco saranno le Filippine a maggioranza cattolica. Come valorizzare questa giovane Chiesa dinamica? Mi hanno detto proprio ieri sera che nelle Filippine, dei Filippini che sono tornati in questi giorni dal loro paese, che in questi giorni, nelle queste settimane, che c'è veramente una preghiera corale intensissima in preparazione alla visita del Papa e quindi queste sono delle premesse molto positive. Ecco, credo che la valorizzazione passa attraverso il riconoscimento del loro ruolo che la Chiesa nelle Filippine ha, sia nel contesto, diciamo, asiatico e del sud-est asiatico, sia nel contesto mondiale. Il Papa vuole con questo viaggio, in continuazione appunto con il viaggio in Corea, concentrare l'attenzione della Chiesa su questa realtà e nello stesso tempo anche inserirsi in quel cammino, in quel novenario di anni che ci sta portando alla celebrazione del quinto centenario dell'arrivo del Vangelo nelle Filippine 1521. Quest'anno l'hanno dedicato ai poveri. Ecco, allora la centralità, diciamo, usiamo questa parola, la centralità deriva dal fatto appunto del numero, cioè che le Filippine sono uno dei paesi del sud-est asiatico dove la maggioranza della popolazione è cattolica. Dico uno perché c'è anche Timoreste dove il 90% della popolazione è cattolica, non dobbiamo dimenticare anche questo. Ecco, è stato anche geograficamente, diciamo, un po' il centro, no? Basta pensare quanti incontri importanti si sono svolti nelle Filippine a partire dalla vista del Beato Paolo VI nel 1970, che poi diede anche origine alla Costituzione della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche. Ancora credo che un altro punto importante è la centralità delle Filippine, per esempio, per gli studi di tantissimi studenti, ecco che dai vari paesi asiatici, limitrofi, vengono per approfondire appunto la loro formazione che si dà nelle differenti università cattoliche del paese. Ed infine direi anche l'irradiazione, ecco, dei Filippini nel mondo, no? Sappiamo come i Filippini sono presenti in moltissimi paesi, moltissimi paesi dell'Asia, ma anche in America, anche in Europa. Quindi le potenzialità di evangelizzazione della Chiesa nelle Filippine sono molteplici. Ecco, l'importante è che la Chiesa nelle Filippine accolga anche questo messaggio e questo impulso dato da Papa Francesco ad essere davvero una Chiesa in uscita, ecco, una Chiesa che sente questo compito di evangelizzazione, di annuncio del Vangelo. Il tema del viaggio sarà misericordia e compassione. Papa Francesco le testimonierà e le invocherà per le vittime del tifone, ma anche per quanti soffrono per la povertà, corruzione, violenza. Sì, sì, questo è un po', diciamo, il tema del viaggio, mostrare compassione, mostrare misericordia nei confronti delle tante persone che soffrono, che soffrono per le calamità naturali, ecco, soprattutto nelle Filippine, che soffrono per ingiustizie strutturali come sono la povertà e la corruzione che lei ricordava, che soffrono anche per le conseguenze, ancora vive del conflitto, ecco, del conflitto civile. E' una misericordia e una compassione che guarisce, ecco, in un primo tempo, quindi è questo un po' il senso, no, del Papa, la presenza del Papa, ecco, portare un elemento, una dimensione di guarigione, ecco, e di conforto in questa situazione. E nello stesso tempo credo anche, proprio perché la misericordia e la compassione sono sempre elementi, come dire, attivi, ecco, richiamare tutti a dare il proprio contributo affinché queste ferite possano essere rimarginate e questi dolori possono essere confortati e soprattutto, ecco, si possano superare le cause che li hanno provocati.